Prima di guardare il video, ti chiedo un piccolo favore. Schiaccia il tasto iscriviti e metti mi piace. Grazie mille. In un mondo dove le celebrità sono costantemente sotto i riflettori, l'improvvisa assenza di Belen Rodriguez dai social media e dalla televisione ha sollevato una serie di interrogativi e preoccupazioni tra i fan e i media. La famosa showgirl argentina, conosciuta per la sua presenza vivace e scintillante sia on screen che online, sembra essersi ritirata dalla vista del pubblico, alimentando voci e speculazioni. La preoccupazione per le condizioni di salute di Belen è cresciuta esponenzialmente, quando Fabrizio Corona, durante una sua apparizione a Belve, ha lasciato intendere che la Rodriguez stesse affrontando un periodo di malessere. L'ansia si è intensificata ulteriormente quando la stessa Belen ha confessato di aver perso 7 chili a causa di stress, rispondendo alle domande dei follower preoccupati per la sua magrezza evidente. L'ultima immagine di Belen su Instagram risale a diversi giorni fa, una rarità per la celebrità che ha sempre condiviso generosamente scatti della sua vita quotidiana con i suoi follower. L'abbandono dei social e il rifiuto di due importanti apparizioni televisive, una con Alessandro Cattelan e l'altra con Mara Veniera a Domenica Inn, hanno solo aggiunto mistero alla sua improvvisa reclusione. La narrazione prende una piega emotiva con la madre di Belen, Veronica Cozzani, che, secondo le voci, sarebbe corsa in suo soccorso, prendendosi cura della figlia durante questo periodo difficile. Questo gesto materno ha toccato i cuori di molti, evidenziando l'importanza del sostegno familiare nei momenti di crisi. Mentre l'affetto e la cura di una madre sono incommensurabili, i fan si chiedono se l'appoggio familiare sarà sufficiente a riportare la vivace Belen sotto i riflettori. La sua recente separazione da Stefano De Martino sembra aver lasciato un segno, e il sostegno dei suoi cari potrebbe essere il toccasana necessario. Nel frattempo, la piccola Luna Marie è stata affidata agli zii Cecilia e Ignazio, ulteriore testimonianza della serietà della situazione. La comunità dei sostenitori di Belen rimane in attesa, sperando in buone notizie dalla loro amata star. In una società sempre più connessa, l'assenza di Belen ha lasciato un vuoto. Il silenzio può essere assordante, e tutti sperano che la showgirl argentina possa superare questo momento difficile e tornare a brillare come ha sempre fatto. Con la madre al suo fianco e una legione di fan che le dimostrano amore e supporto, Belen non è sola nella sua battaglia. Grazie. Grazie.